Agustino Toppi, referente dell'Oxen per questo progetto europeo di sport integrato, di cosa si tratta? Allora si tratta di far partecipare dei ragazzi esteri grazie all'Oxen, il centro sportivo edecutivo nazionale che è riuscito a ottenere un finanziamento europeo per coinvolgere dei 12 paesi esteri che verranno poi dislocati in 12 regioni italiane. Parliamo di sport integrato, cosa vuol dire sport integrato? Allora, sport integrato è un'innovazione che l'Oxen nazionale ha proposto e serve principalmente per far capire che c'è la possibilità che il normo dotato si mette alla pari del disabile e può gareggiare con le regole del disabile. È evidente che se la Commissione europea decide di promuovere un'attività di alto livello non solo agonistica ma soprattutto di coinvolgimento di tutte le fasce, anche quelle più deboli, dimostra grande rilevanza sociale a livello di più paesi, anche perché qui parliamo di quattro realtà estere che saranno presenti nella provincia di Pescara. Il maestro Agostino Toppi ne è una figura apicale dal punto di vista organizzativo. Noi abbiamo grande coinvolgimento non solo istituzionale ma anche partecipativo dal punto di vista dei territori che rappresentiamo. È una grande opportunità per la nostra provincia, è un grande momento di riflessione che deve essere accolto con tutto il livello possibile di rispetto ma soprattutto di coinvolgimento. Simone D'Alfonso, Vice Sindaco di Letto Manopello, anche voi partecipate come Comune patrocinante a questa manifestazione dell'Oxeno, una manifestazione importante da un punto di vista educativo. Sì, importantissima, bellissima, innovativa, tanto da dire, soprattutto perché è una manifestazione che coinvolge il Comune di Letto Manopello nella persona del maestro Agostino Toppi, illustre ormai cittadino della nostra comunità, che riesce a coinvolgere da una piccola realtà come Letto Manopello un grande progetto che è quello dello sport integrato, soprattutto coinvolgendo partner europei molto ma molto riguardosi.